Immobile ragazzi, sempre lui la decide, mamma mia 200 gol con la Lazio veramente è impressionante questo calciatore, non smetterò mai di ringraziarlo primo indiscusso, nessuno come lui con la maglia bianco celeste incredibile, più che altro sono sbalordito perché abbiamo vinto in Champions e sapete che io adoro la Champions quando sento quella musichetta che tra l'altro da quando tifo Lazio ho visto soltanto la Lazio due volte in Champions e quindi capite bene che questa per me è una competizione che va onorata mi dà sempre quella sensazione magnifica che il campionato non ti dà e il bello è che abbiamo vinto senza subire golpi, non ci volevo neanche credere è impressionante, Provedel miracoloso, anche negli ultimi minuti ha fatto una parata spaventosa che anche là ho detto mamma mia, per fortuna c'è andata bene perché verso la fine della partita stava uscendo anche il Feyenoord e veramente io temevo di perdere così tre punti temevo che il Feyenoord appareciasse la partita invece no, perché c'è Ivan Provedel che in Champions sta facendo Faville tra il gol e le suntuose parate che sta facendo è veramente qualcosa di pazzesco poi la difesa, posso dire, sì magari qualcosina abbiamo sbagliato non abbiamo concesso molto però, anche se verso la fine stava venendo fuori loro e noi stavamo un po' lasciando giocare gli avversari sembrava quasi che noi ci accontentassimo del gol anche se, ripeto, ci abbiamo sempre provato però secondo me a tratti, non dico che siamo usciti dal campo come nella scorsa partita che ecco, sì, c'era da arrabbiarsi questa volta invece siamo stati sul pezzo fino alla fine poi in Champions noi però abbiamo tutta un'altra mentalità rispetto al campionato ma lo stiamo vedendo cioè in Champions sembra quasi che noi iniziamo a giocare sembra che il campionato per noi non valga nulla che per carità è vero che la Champions vale molto di più sono contento che comunque Sarri stia lavorando su tutte e due le competizioni anche perché adesso finalmente la rosa ce l'abbiamo quindi sono contento anche se è presto per dirlo però almeno così il girone dovremmo passarlo almeno per secondi se continuiamo così non mi va giù il fatto che la concentrazione qua in Champions tutti concentrati, tutti che hanno voglia tutti motivati a fare bene invece in campionato no e vi ricordo che il prossimo anno se noi arriviamo decimi nel prossimo anno non faremo la Champions non la facciamo e quindi e quindi ragazzi sarebbe importante anche in campionato far bene poi la nostra continuità è un punto da kill purtroppo è sempre stata così nell'era Sarri speriamo di risolvere questo problema e dovevamo risollevarci dopo i punti persi nella partita precedente secondo me come rosa eravamo superiori appunto al Feyenoord e quindi ecco mi aspettavo di vincerla anche se non senza faticando perché attenzione tutte le partite in Champions non sono mai semplici poi anche in campionato ma in Champions abbiamo avuto anche dimostrazioni varie anche l'anno scorso tutti un po' sottovalutare le squadre italiane perché negli anni precedenti facevano male in Champions e in tutte le competizioni europee invece l'anno scorso la sottovalutate vabbè è il cammino lievemente più semplice tutto quello che volete ma si sono dimostrate essere molto toste da battere quindi anche squadre come il Feyenoord come il Celtic che magari sulla carta sono lievemente più scarse di noi o comunque in generale sono tra le più scarse dei gironi di Champions bisogna stare attenti perché sono insidiosi soprattutto quando si gioca in trasferta non è mai semplice e poi ragazzi chi mi dice eh ma il girone era semplice bisogna passare che bisogna passare sono d'accordo perché bisogna onorare la competizione e se sei sulla carta più forte devi fare di tutto per vincere una partita ma anche se non lo fossi anche se sei la squadra più scarsa ecco però diciamo che di partite semplici non ce ne sono dobbiamo mettercelo in testa e mai sottovalutare gli avversari come facciamo spesso in campionato come mai che contro le big noi siamo motivati facciamo sempre bene poi magari si ci sta che perdi anche contro una big ma normalmente riusciamo sempre a stappare qualche punticino invece contro le squadre di bassa classifica facciamo più fatica come mai perché ci manca la motivazione ecco detto questo ragazzi io sono contentissimo ripeto per questa vittoria non sarà più l'immobile di qualche anno fa che segna ogni partita non le può più giocare tutte anche per problemi fisici che anche nonostante l'età che purtroppo avanza anche per lui e quindi fa sempre più fatica a essere decisivo ma soprattutto perché ecco secondo me lui si trova meglio con come giocava in Zaghi piuttosto che Sarri perché lui è uno bravo ad attaccare alla profondità ma se te non lo manda in profondità o lo manda in profondità una volta in una partita lui è quasi un giocatore nullo quindi capito adesso che hai anche un buon sostituto bisogna alternarli e quindi sono sicuro che il suo lo fa si impegna e farà bene guardate che ci ha regalato la vittoria questa sera tra l'altro non sul rigore quindi vedete a chi diceva che segna solo sul rigore segna anche su azione quindi vedete ancora capace dopo invece ragazzi anche contro la Fiorentina il rigore quindi altri tre punti guadagnati grazie a lui quindi immobile dovremmo sempre essere di grato e ovviamente non è che adesso attenzione non voglio dire che deve giocare sempre perché sono due cose diverse questo ci tenevo a dirlo adesso nella prossima partita ragazzi al derby anche qua ci divertiamo perché va bene la Champions tutto quanto ma il derby è sempre una partita a sé sempre un qualcosa di meraviglioso e probabilmente partirà immobile e io vi dico che ci può stare anche perché diciamo che immobile spesso si scatena nei derby comunque anche se gioca Casteggiano io sono contento abbiamo due ottimi attaccanti finalmente la rosa è buona io ragazzi vi saluto termino qua da Maca come ne è tutto arrivederci e sempre forza Lazio grazie a tutti